Salve amici e benvenuti in questo nuovo video nel quale vi mostrerò come pulire la vostra penna stilografica. Se avete lasciato la vostra penna inutilizzata per molte settimane è probabile che l'inchiostro al suo interno si sia seccato, come in questa qui. Per questo motivo la penna va pulita prima di essere utilizzata, oppure avete finito l'inchiostro nella vostra penna e volete cambiare colore oppure marca. Infatti anche se usate lo stesso colore ma di un'altra marca o tipologia della stessa marca è sempre preferibile lavarla. I diversi inchiostri infatti potrebbero reagire l'uno con l'altro e rischiare di intasare la vostra penna. Per lavare la vostra penna dovete usare solo ed esclusivamente acqua, meglio se distillata, ma anche quella del rubinetto va abbastanza bene. Assolutamente non usate alcol, acetone o candeggina perché danneggerebbero irrimediabilmente la vostra penna. Soprattutto l'acetone rischia di sciogliere i componenti in plastica della vostra penna. Nel caso di inchiostri davvero persistenti che non ne vogliono davvero sapere di sciogliersi nell'acqua, possiamo usare delle soluzioni apposite come questa prodotta da Jacques Herbin, che tra l'altro fa degli inchiostri davvero molto belli, ai quali però dedicherò un video apposito. Oppure nel caso non abbiamo questo genere di soluzione possiamo usare della semplice acqua e sapone magari un vecchio spazzolino. Innanzitutto riempiamo due bicchieri con acqua, come ho fatto qui. Meglio se il primo lo riempiamo all'incirca a metà, adesso vi mostro il motivo. Andiamo a immergere la nostra penna nel primo bicchiere e la scuotiamo un po'. Come vedete ha già colorato tutta l'acqua di nero. A questo punto andiamo ad azionare il meccanismo a stantuffo della penna e vogliamo aspirare al suo interno un po' di questa acqua, ma la cacciamo subito. Facciamo salire e scendere lo stantuffo due o tre volte. E ora andiamo ad immergere la penna nell'acqua pulita. E facciamo la stessa cosa aspirando l'acqua pulita che però andiamo a far cadere nel primo bicchiere in modo tale che l'acqua rimanga pulita nel secondo bicchiere. Ripetiamo questo processo finché l'acqua non esce completamente limpida dalla penna. Ho ripetuto il processo circa una ventina di volte e ho svuotato i bicchieri perché siano fatti totalmente neri e direi che la penna non ha più residui di inchiostro al suo interno. Quello che posso andare a fare adesso è vado a svitare il pennino molto delicatamente nel caso di questa pelican e lascio un pochino, sì come vedete c'è ancora un poco di inchiostro, lascio il pennino a bagno per qualche minuto. Ovviamente vi sto mostrando come si farebbe su una penna a stantuffo. Nel caso abbiamo una penna a converter, possiamo usare il converter per fare esattamente lo stesso processo. Infatti il converter è un ottimo strumento anche per la pulizia della penna. Dopo aver lasciato a mollo il mio pennino per qualche minuto sono andato a svuotare il bicchiere nel lavandino del bagno e ho fatto qualche altro risciacquo sotto l'acqua corrente finché l'acqua non rimaneva completamente limpida. A questo punto voglio andare a recuperare il mio pennino e facendo sempre molta attenzione andiamo ad asciugare per togliere tutti i residui di acqua. Per pulire l'interno della mia penna voglio andare a far scendere il meccanismo a stantuffo fino in fondo e usando un bastoncino cotonato come questo qui posso andare a inserirlo all'interno per togliere qualunque traccia di acqua o inchiostro che può essere rimasta. Ok. Una volta che ho asciugato il pennino e ho asciugato il corpo della penna posso andare a riavvitarlo al suo interno facendo attenzione a non stringere troppo. Una volta arrivato a fine corsa va bene così. Nel caso dovessi stringere troppo rischierei di danneggiare il pennino. Ho ricaricato la mia penna con questo inchiostro Edelstein linea Edelstein della Pelican che è la top di gamma con una colorazione olivine che è una sorta di verde scuro e nel farlo come potete vedere sto facendo anche un pasticcio. Il bello della stilografica è anche quello. Ci si pasticcia le mani di inchiostro. Andiamo a vedere come scrive la nostra penna pulita e ricaricata. La penna è una Pelican Souverain M800. L'inchiostro è un Edelstein. Ollivine. 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 Ollivine.